Ragazzi, buona serata a tutti, non so quanto dura la lampada perché mi sono dimenticato di caricarla, quindi Ultimi tre minuti della partita, indipendentemente da come andrà, pareggio Vittoria, sconfitta, cioè nel caso anche in cui miracolosamente dovessero rivaltarla i nostri Ma, qua, attenzione È arrivato un giocatore nostro a terra in area di rigore loro, non lo so cosa è successo Vabbè, comunque, palla nostra, novantatresimo minuto, mancano due minuti e dieci secondi più o meno Ragazzi, io, io, io non ho veramente più parole Io non ho veramente più parole, non ci sono più attenuanti, non ci sono più scuse Non ci sono più giustificazioni perché ogni partita che sia campionato Perché, ecco, infatti, che sia campionato, ok? Che sia Coppa Italia o che sia Europa League non è mai stato un discorso di sentenze È stato un discorso semplicemente che Allegri, è inutile girarsi attorno Allegri non dà un'impronta di gioco alle proprie squadre Massimiliano Allegri non è che deve andarsene dalla Juventus Massimiliano Allegri, secondo me, deve veramente appendere il patentino dall'inattore al chiodo Ecco, questo deve fare, deve ritirarsi dal mondo del calcio Allegri Non è adatto a rimanere nel calcio moderno perché non vuole migliorarsi Indipendentemente da cosa porterà a casa, anche se dovesse portare a casa gli ultimi due trofei di consolazione Guarda qua, chiesa Vabbè, gli ultimi due trofei di consolazione che sono rimasti c'è la Coppa Italia dell'Europa League Perché di fatto si tratta di quello, due trofei di consolazione Indipendentemente appunto da cosa porterà a casa e se porterà a casa qualcosa Qua, ripeto, noi facciamo copia e incolla di tutte le partite Coppa Italia, Europa League e Campionato Ed è sempre lo stesso copione Quindi qua non è, ripeto, mai stato un discorso, un problema di sentenze Perché da giovedì ad oggi la prestazione non è cambiata assolutamente Qua poteva lasciare andare il vantaggio del Sassuolo dato che era un 3 contro 1 Vabbè Qua non so che cazzo ha fischiato, attenzione Perché giustamente i giocatori del Sassuolo protestano perché era un vantaggio abissale 3 attaccanti contro un difensore nostro E ha fischiato il fallo Vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare Qua c'è, allora È lo stesso copione È lo stesso copione Non è cambiato nulla rispetto alla partita contro lo Sporting Contro lo Sporting Quando tu basi tutto sugli episodi Ok Gli episodi ti possono andare bene, ti possono andare male Oggi ti sono andati Come ti dovevo andare giovedì Giovedì ti è andata bene Quindi, inoltre, sì, dopo il gol loro Hai creato quell'occasione con Rabiot e un altro tiro di Di Maria Ma se noi guardiamo dopo il gol loro Hanno avuto più potenziali, al di là delle palle gol nitide Più potenziali i palle gol loro Perché hanno avuto il colpo di testa centrale Hanno avuto un'altra occasione Ok Intanto è finita la partita Sassuolo Batte Juventus 1-0 Vergognatevi Vergognatevi Attenzione, scusate Noi Allegri non lo vogliamo Giustamente Anche perché Anche perché tra questi Tra questi che cantavano questo coro All'epoca Sono anche alcuni che adesso invece sostengono Allegri Vanno contro chi lo critica Adesso sarebbe da criticare Non all'epoca Che non sapevi neanche No Che tipo di allenatore poteva essere E quant'altro Anche se potevi farti un'idea Però Vabbè Comunque Comunque Ragazzi Ripeto Loro hanno avuto due Palle gol nitide dopo il vantaggio Quindi potevano chiudere la partita ben prima E hanno avuto tre potenziali contropiedi sprecati Perché sono scarsi Lo Sporting Lisbona per me non è più scarso di questo Sassuolo Contro l'Arsenal il Sassuolo non sarebbe passato Perché poi lo Sporting è sicuramente più esperto A livello europeo rispetto al Sassuolo Quindi sarebbe passato per quel motivo là Cioè è passato lo Sporting per questo motivo qua Poi l'Arsenal ha una competizione molto più importante 20 volte più importante Quindi si concentra lì Poi oggi ad esempio West Ham Arsenal io me lo sono vista Robbe ma anche lo West Ham Che se non sbaglio si gioca la salvezza Gioca Ha dei meccanismi Li vedi che giocano Che giocano a memoria Poi mi sono visto Cioè non ho mai fatto una cosa del genere Ok Durante una partita da Juve Mi sono aperto sul telefonino Now E mi sono guardato In contemporanea anche Nottingham Forest United Con gran gol Con gran assist Scusate di Di Anthony Gol di Anthony Oggi Ma a livello di gioco Lì non è una Ragazzi non è una questione di giocatori E di qualità dei giocatori Perché Le squadre di Allegri Anche i tempi Nostri Quando dominavamo i campionati Ma anche quando vinceva Con il Miral C'era Buffa Che diceva Le stesse cose Che diciamo noi Da anni Da anche gli ultimi scudenti Che vinceva Massimiliano Allegri Con la Juventus Quindi qua non è un discorso di avvero Non avere i giocatori forti I campioni I fuori classe O i giocatori comunque ottimi Qua è un discorso di testa Di mentalità Di organizzazione offensiva Che deve dare l'allenatore Che Allegri Non è capace O non vuole dare Io spero più la prima Perché se è la seconda È ancora più grave la cosa Però è una questione ideologica Se non vuole dare un qualcosa Ma io credo Credo e spero che sia la prima Che è la prima Io credo Fermamente che non è in grado Oggi Su Instagram Un Allegriano Mi ha contattato Ragazzi È inutile che mi contattate Perché sapete il mio pensiero I confronti Su queste tematiche ideologiche Non hanno esito positivo Non avranno esito positivo mai Perché è come se due correnti Ideologiche A livello politico e sociale Si mettono a confrontarsi Non si riuscirà mai A trovare un punto di incontro Perché tutti rimarranno Nella Sulla loro Idea E alla fine Si rischierà semplicemente Di scontrarsi Quindi è inutile Che voi veniate Come io non vengo da voi Ok Perché tanto Voi non cambierete la vostra idea Di merda Io non cambierò la mia idea Quindi è inutile continuare A cercare di fare cosa Di fare cosa Perché poi io vi dico Che ci sono i dati di fatto Davanti E gente che ogni volta Mi cita Emma E anche Lippi Che faceva Si Lippi è stato L'unico allenatore O uno di pochi Comunque l'unico allenatore Che ha fatto un calcio Propositivo e dinamico Di pressing Alla Juventus Nella storia di Juventus E in percentuale In proporzione Ha fatto meglio Di tutti gli altri Allenatori speculativi Che abbiamo avuto Nella nostra storia Ha vinto la Champions Ti ha aperto Un ciclo europeo Ha perso finali Per colpa anche Della società Che cambiava metà squadra Ogni anno Quindi E la colpa Alla società L'ho sempre data Però Lippi è stato L'unico allenatore Che ha dimostrato Che la mentalità L'allenatore La può cambiare Indipendentemente Dalla società Che c'è Punto E certo Poi bisogna puntarsi Anche società Questo sicuramente Ma ci sono allenatori Che possono fare i manager E allenatori Che non lo possono fare Allegri è uno Che non può Fare il manager Abbiamo visto le scelte Di mercato Che ha fatto Poi se noi vediamo Che noi siamo su Frattesi Ragazzi Frattesi È un giocatore Normalissimo Ha fatto delle cagate Oggi Alternate a belle giocate Ma non è un giocatore Che se lo paragoni Con altre realtà europee Dici cazzo Questo qua Può diventare Un futuro Campione Non può essere Così O comunque Un giocatore forte Potenzialmente No Fagioli Sbaglia Prendiamo gol Lì io non critico Fagioli sul gol Lì critico Allegri Perché l'ha levato subito L'ha levato subito A differenza di quello Che ha fatto Con qualche senatore Se non sbaglio Che aveva sbagliato O di qualche esperto Che aveva sbagliato E l'ha levato dopo Un quarto d'ora Per non far sì Che pesasse Sta cosa qui Con Fagioli Non l'ha fatta Sta cosa qui Con Miretti L'ha sputtanato Ottobre Davanti a tutti E i giovani nostri Sapete benissimo Che per me Non sono All'altezza degli altri A livello europeo Perché Si lavora male A livello di Vivai Ok Si pensa sempre Solo al risultato Anche a livello di Vivai Da altre parti Non è così Informatevi Non è così Anche Luca Casalino Che tra l'altro Mi diceva tantissime volte Perché ha fatto anche Stas Da altre parti Nel settore giovanile Ad esempio dell'Ajax Non è così Solo qui in Italia C'è questa convinzione Quante volte Io e lui ci battevamo Anche Ci battevamo Su sto argomento qua Sui settori giovanili Su quanto si lavori Male sui settori giovanili E cosa si mette Diciamo gli obiettivi Sbagliati Che si mettono davanti Nei settori giovanili Invece che la crescita Dei ragazzi Quante volte Quante volte L'avete sentito Da noi in live Poi La cosa che critico A Fagioli Purtroppo Siccome è la seconda volta Non è l'errore È il fatto di piangere Quello dimostra Quello che vi dico sempre I nostri giocatori Non hanno personalità Perché dopo un errore Contro il Sassuolo Che ti Porta al gol Ti leva Ok Ha sbagliato Ma non puoi piangere Per la seconda volta L'altra volta Perché hai sbagliato Un gol contro Chi cazzo era Contro l'Inter No contro Chi cacchio Vabbè Vuoto in memoria Ma poco Poco tempo fa Si è stato tipo Una settimana Contro la Lazio Forse Contro la Lazio era E anche là Sbagli il gol Esci Nervoso Squotti la testa Ti disperi E oggi piangi Non può Questo dimostra Poca personalità Da parte dei giovani italiani Lo volete capire Su questa cosa qui Allegri Non l'ho mai criticato L'ho criticato Sul fatto Del motivo Per il quale Non mettessi i giovani Perché lui Diceva Eh ma i giovani No Tu devi parlare Di problema Del vivaio giovanile Italiano Del vivaio italiano Di come si lavora Di merda Nei vivaio italiani Allora ti do ragione Al 300% No lui si basava Semplicemente sul fatto Di metterlo Non metterlo Un giovane Quella è la cazzata Perché dalle altre parti Uno ti dice Ma dalle altre parti Li mettono Senza problemi Sei tu che non li metti Oggi ripeto Ma Come da inizio stagione Non ci sono attenuanti Perché allora Anche l'Inter Che fa un calcio speculativo Ma vedi la Diciamo La diversità No L'approccio diverso Che c'è tra Italia e Europa In Italia ormai In Europa Nonostante facciano Comunque un calcio speculativo Difensivista Quello che vogliamo Ma mettono Un atteggiamento diverso Noi no Noi no Vinci contro Sporting 1-0 Contro Il Nant Perché loro rimangono in 10 Lì Vinci contro Friburgo Perché ti va di lusso C'è Il Sassuolo Per me è più forte Di queste tre squadre Eh E poi ci sono ancora Giustificazioni Su questa cosa qui Sulla stagione difficile Ma lo dicono anche loro Che si concentrano in campo Una volta no Una volta sì Una volta no Una volta sì L'incoerenza Dove cazzo è? Cioè anzi La coerenza Dove cazzo è? Quando vai in campo Chi ha giocato a calcio Lo sa benissimo Vai in campo Per giocare a calcio Quello che succede All'interno di fuori Te ne frega dopo Nel caso Non durante la partita Ma siccome Ripeto Il modo di giocare Allegri è questo Non può cambiare Perché comunque Avrebbe dovuto lavorarci In questo anno e mezzo Da ritorno su Non ci ha lavorato E non ci lavorerà mai Ok Allegri è questo Ma io mi incazzo Più che con lui Con chi lo difende ancora Perché questo è Allegri E lo sappiamo noi E lo sarà sempre E lo sappiamo noi Ma questo non significa Che è giusto Che sia così Invece per voi È giusto Che sia così E allora tenetevi Adesso che non hai nettamente La squadra più forte Tenetevi Anche Le inculate Punto Senza se E senza ma Perché Oggi veramente Non so ne ho più Adesso Abbiamo affrontato Lo sporting Hai affrontato La Lazio La prima squadra decente Che ti affronti In questo periodo Perdi 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 Hai battuto L'Inter Che comunque Stiamo vedendo il campionato Che sta perdendo Contro tutti E vabbè La Lazio Che si gioca con qualcosa Il campionato Ti ha battuto Adesso Hai lo sporting Lì a Lisbona Che non è ancora Nulla più scontato Ma secondo me Secondo me Secondo me Lo dico dai playoff Per me la Juventus Ha È una di quelle poche squadre In Europa League Che lì conta Questa cosa qui Non il fatto Delle prestazioni Di come giochi E se sei più forte Conta La fame che hai Anche se non l'abbiamo dimostrato Neanche in Europa League E il fatto che tu Non abbia nulla Da chiedere più al campionato La Juventus Non ha nulla Da chiedere al campionato Ok Sì da difendere Il quarto posto Sicuramente Però Credo che Non sia difficile Vedendo anche le altre squadre Dietro Vabbè Comunque Al di là di questo Sei una delle poche squadre Che veramente Non ha nulla da chiedere E nulla da perdere Quindi per questo Io la Juventus La metto come favorita La mettevo come favorita Anche di più Rispetto ad Arsenal E United Nonostante Secondo me A livello di Rosa Vi ripeto Per me non è neanche Non sono neanche Questi squadroni Che fate Che dipingete Sono gli allenatori Che fanno sembrare Queste squadre Grandi squadre E' diverso Arteta sta facendo Un miracolo Con l'Arsenal Eh Quindi Vabbè Io ragazzi Non so che aggiungere Non so che aggiungere Non Ripeto Ripeto Da questa parte Si critica Anche quando si vince Alla cazzo di cane Come contro lo Sporting E perché si critica Perché poi ci sono queste Figure di merda Qua quando tu Ti accontenti Sempre di quelle prestazioni E dici Io godo Quelli che adesso Mi dicevano giovedì No Il risultato La vittoria E quant'altro Tu hai fatto Pressoché Anzi Anzi Diciamo Oggi forse Ho giocato Cioè dopo Dopo il gol loro Qualcosina in più Forse l'hai fatto No Però al di là di questo Perché sempre con l'acqua La gola Poi passa al 4 e 3 Lui E questo è il problema No Io ve l'ho detto Su Costice Non ci rinuncerà Mai Mai Tant'è che Di Maria e Chiesa Potranno giocare insieme Solo con un 3-4-3 Un 3-4-2-1 Comunque con la difesa 3 Barra 5 Perché sarà sempre 5 Lui ci giocherà Fino alla fine della stagione Da quando Bene Abbassando il baricentro Tutte le conseguenze Del caso Ripeto Quando io critico Quando si vince Perché non è una prestazione Se tu facessi una prestazione Di merda Come giovedì Vinci Dopo tante prestazioni Decorose Diciamo Tu festeggi anche Ma siccome è sempre Uno più uno più uno E non vedi Luce in fondo al tunnel E ti ha levato L'entusiasmo Questo allenatore qua Anche quasi di difendere La tua squadra Degli attacchi esterni È per questo Che non si sopporta Più allegri Perché ha levato A molti Non dico la juventilità Però ha levato Proprio l'entusiasmo Del tifoso In generale E lui Ma anche Come lui Chi lo difende Agnelli anche All'epoca Che la scelta Io Questa situazione qua Me l'aspettavo Della divisione Quando è stato richiamato Lega Me l'aspettavo Pum Vabbè Io tra l'altro A uno che mi ha scritto Cosa ne pensi oggi Prima dal partito Ho detto Per me oggi si perde Vabbè Comunque Ragazzi Buona Buona continuazione a tutti Buon Buon fine settimana Buona domenica Buon fine Fine settimana A 360 gradi C'è l'ultimo giorno A settimana Quindi Buona domenica a tutti Buona serata a tutti E niente Ci vediamo Da domani Inizio 10 giorni Neanche Non dico fondamentali Normali Importanti Diciamo Perché comunque Coppa Italia e Europa League Non ti salvano la stagione Lo ripeto Quindi Cioè Di questi 10 giorni La cosa più importante Probabilmente È la sentenza di mercoledì Giusto per farvi capire Perché Cioè L'Europa League Non è che mi faccia Cioè Spostare l'ago La bilancia Mi faccia impazzire Come la coppita Sinceramente Fino a che avrò Questo allenatore qua Soprattutto Puoi vincere Tutti i trofei Anche la Champions Faccio Un esempio Veramente Improbabile Ma L'entusiasmo Se vince la Champions Sicuramente ci sarà Però Allegri Per me Rimarrà Un limitato E non sarà mai Un grande A meno che non cambi Ma non cambierà mai Questo Vabbè Buonasera a tutti L'analisi tattica Non credo che uscirà Di questa partita qua E Per l'analisi tattica Ci rivedremo direttamente Per Post Sporting Juventus Quindi venerdì Ciao a tutti E sempre Comunque Fino alla fine Forza Juventus Ciao ragazzi